Non c'è un libro adatto a tutti, c'è un libro che è adatto a ciascuno, alle esigenze di ciascuno e ai gusti di ciascuno. Io consiglio sempre di leggere i classici, perché nei classici poi apparentemente si scoprono dei mondi nuovi. Come diceva Eco, leggere ti apre le porte, ti fa conoscere le realtà che non conosci. È stata l'Alezio Magistralis di Marco Garavaglia, tra i più noti editor italiani e già consulente editoriale di RCS Libri, Corriere della Sera, Mondadori, Rizzoli e Cairo a inaugurare l'edizione 2021 di Storie, Libri e Cucina a Barletta, rassegna letteraria organizzata dall'Associazione Culturale Piazza Marina. Come si pubblica un libro è stato l'interrogativo di fondo che ha animato l'incontro dal titolo Un libro nel cassetto, consigli per aspiranti autori. Uno pensa che la risposta sia superficiale, basta scrivere un bel libro. È un buon punto di partenza, ma è appunto un punto di partenza, poi ci sono tanti altri step da affrontare. A dialogare con Garavaglia sul palco di Piazza Marina c'è stato Tommy Di Bari, autore e scrittore. Poter tornare a guardarsi negli occhi e ove possibile anche a rivivere un contatto, perché tutto questo significa che ha abbassato il nostro tasso di percezione, ha aumentato il nostro tasso di isolamento e questo ci ha reso più manipolabili. Invece tornare a vivere nel modo possibile rende evidentemente le cose diverse nella loro forma e nella loro sostanza. L'incontro è stato utile per capire come un editor pensa e lavora, fattore estremamente utile per stilare una proposta editoriale nel modo giusto. Nell'occasione i partecipanti hanno potuto consegnare a Garavaglia anche i propri manoscritti nel cassetto, racconti, romanzi su supporto cartaceo o digitale per poterli fare valutare. Perché nonostante una tecnologia che corre sempre più veloce, la scrittura mantiene una posizione predominante. In realtà il mondo dell'editoria è un mondo tutto sommato conservativo, statico. Negli ultimi anni sono cambiate tantissime cose, soprattutto a livello di comunicazione. Però il libro, la fruizione del libro è rimasta abbastanza stabile. Anche le nuove forme di fruizione del libro, gli e-book, i cellulari, si pensava cambiassero molto del mondo del libro. In realtà il libro di carta, quello che è stato inventato ancora nel XV secolo con gli incunaboli, con la stampa caratteri immobili di Gutenberg, è rimasto ancora uguale con lo stesso tipo di lettori, con lo stesso tipo di dimensioni. È paradossale perché anni fa si parlava del futuro che ci aspettava come la società dell'immagine. E invece se ci pensiamo questa è la società della parola scritta. Nella serata Garavaglia ha offerto un decalogo di consigli utili, prima di tutto per essere un buono scrittore. Occorre essere un buon lettore. Mi ricordo che c'era una collana di romanzi per ragazzi di Mursia e io me li ero presi tutti e li leggevo di notte con gran rabbia di mio padre sotto le coperte con la pila. E quindi ho tutti i libri di Verna, David Copperfield, quei classici della narrativa per infanzia. Romanzi, biografie, racconti e messaggi sociali si alterneranno fino a inizio agosto sul palco di Piazza Marina. La prossima tappa in calendario è quella di venerdì 9 luglio alle 21, quando la dimensione del viaggio sarà protagonista con il giornalista Giorgio Terruzzi e il suo atlante sentimentale.